Ora oggi non sta al cinema, come il ricordo di un sogno sul punto di sveglia. È lì che ci è sembrato di vederla, la coda di un segreto, la scintilla di qualcosa. Ciò che rimane di quel fuoco che accendeva i porti e infiammava la notte. Siamo noi, siete voi. Il club in quegli anni era preserva di vibrazioni positive. La gente lo frequentava come una cura settimana. Non poteva farne a meno perché era il fulcro e il luogo della società. Senza selfie, social e wifi. Le cazzoni inneggiavano al ballo, alla felicità, ad incontrare amore e sesso. Il rito, la celebrazione del sabato notte, della domenica pomeriggio e dell'appuntamento universitario. Il primo è con la house e l'advento, le piste da ballo del divertimento e i grandi stage dove la musica era la stessa che ci accompagnava nella vita di ogni giorno. Un'onda che è salita con il mezzo al cuore. Oggi è ciò che resta dopo il suo defluire. Benvenuti a Operare una notte. Benvenuti a Operare una notte. Benvenuti a Operare una notte. come on come on come on